Benvenuti su Italia Dorata, il canale dove potete trovare tutte le ultime notizie dall'Italia. Siamo orgogliosi di portare avanti la tradizione del giornalismo italiano, offrendovi notizie accurate e imparziali su tutto ciò che riguarda il nostro amato paese. Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo il nostro servizio informativo di oggi. Elona Cala è stata condannata a 30 anni di carcere. Questa la sentenza arrivata oggi dai giudici della Corte d'Assise di Firenze per la morte di Spettim e Teutapascio. Elona Cala è stata ritenuta responsabile dell'assassino e lo smembramento dei cadaveri dei genitori del suo ex, trovati a pezzi e abbandonati in alcune valigie a Sollicciano, alla periferia ovest di Firenze. Per la morte di Teutapascio, scomparsi nel novembre 2015 ma ritrovati cadaveri solo nel dicembre 2020, la procura fiorentina aveva chiesto per la 37enne la pena massima dell'ergastolo. Dopo la requisitoria del PM e la ringa difensiva dei legali dell'imputata, secondo i quali, non si può condannare per omicidio una persona se non si sa se ha ucciso, con chi lo avrebbe fatto e perché, oggi all'apertura dell'udienza nell'aula bunker di Santa Verdiana, a Firenze, la procura del capoluogo toscano non ha replicato e i giudici della Corte d'Assise sono entrati in Camera di Consiglio per decidere. Tra i presenti anche l'ex fidanzato di Elona Cala e figlio di Teuta e Speshm, Tolant Pascio. Spero solo che venga fatta giustizia, ha dichiarato l'uomo. Secondo l'accusa, la donna avrebbe ucciso barbaramente entrambi i suoceri per impedire che la coppia rivelasse al figlio in carcere che lei aspettava un bambino da un altro uomo. Esistono indizi gravi precisi e concordanti hanno spiegato i PM in aula. In base alle indagini effettuate dai carabinieri, la donna avrebbe abortito in ospedale a Firenze nell'ottobre del 2015, pochi giorni prima della scomparsa dei Pascio, avvenuta il primo novembre, e della scarcerazione dell'ex fidanzato, detenuto nel carcere di Solicciano fino al 2 novembre dello stesso anno. Teuta e Speshm Pascio erano scomparsi nel novembre 2015, da allora di loro non si era saputo più nulla fino alla terribile scoperta di quattro valigie trovate in un campo tra la superstrada e il carcere di Solicciano. In quelle valigie vi erano i resti smembrati dei due coniugi. Le indagini hanno portato a Elona Cala, arrestata il 22 dicembre del 2020 e accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Per l'accusa, la donna avrebbe ucciso i due coniugi proprio all'interno della sua abitazione di via Felice Fontana ma per la difesa non, esiste alcuna risultanza probatoria che individui l'appartamento di via Fontana come luogo dell'omicidio, nessun condomino ha sentito rumori particolari o visto movimenti sospetti. E questo è tutto per le notizie di oggi su Italia Dorata. Siamo sempre qui per tenervi aggiornati sulle ultime novità dall'Italia e per portarvi notizie, approfondimenti e curiosità sul nostro amato paese. Continuate a seguirci per le ultime notizie e per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sull'Italia. Alla prossima volta e spero che l'Italia continui a brillare come l'oro.